Io ti lancio, lei scorpione, un segno che non va con l'amore. Oh, oh, re, cosa accade? Dove andare per alimentare questo mio cuore? Oh, oh, re, caro direttore, mi sembra di impazzire, ho preso come dire una tremenda cotta. Caro direttore, mi stia un po' a sentire, mi deve aiutare, non so più che fare. Io ti lancio, lei scorpione, un segno che non va con l'amore. Mi risponda, per favore, non gestini questa lettera mia, dottore. In estate vado in India, qualche volta in Brasile, ho l'aereo personale, ma è così canale. E pensare ho avuto tutto, una casa di sogno, un lavoro interessante, un amico ce l'ho, o forse no. Io bilancia, lei scorpione, un segno che non va con l'amore. Oh, oh, re, cosa fare? Dove andare per alimentare questo dolore? Oh, oh, re, caro direttore, non ci capisco niente, mi sento frattornato come un latitante. Caro direttore, la devo salutare, le voglio ricordare che io vivo male. Io bilancia, lei scorpione, un segno che non va con l'amore. Cosa fare? Se morire, forse è meglio rimandare tutto. Oh, oh, re. In estate vado in India, qualche volta in Brasile, ho l'aereo personale, ma è così banale. E pensare ho avuto tutto, una casa di sogno, un lavoro interessante, un amico ce l'ho, o forse no. Io bilancia, lei scorpione. Io bilancia, lei scorpione. Io bilancia, lei scorpione. Io bilancia, lei scorpione. Ciao. 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 Ciao.